Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti, benvenuti nel mio tavolo, sulle delle dentro, il mio tavolo creativo. Allora, dopo tanti passaggi, le cose vanno vissute e non si sa quanti giri ha fatto, diciamo, la postazione, in quanto il tavolo è stato sempre qua, però le cose che io ci mettevo sopra per come mi dovevano servire. Ho trovato la posizione ideale, le penne dove devono stare, quello dove devono stare, gli astucci dove devono stare, in modo tale che riesca a muovermi bene su questo tavolo. Io sto qui, sto parecchio qui, questo è tutto un tavolo da cucina, quella è la macchina da cucire. Io sto spesso qui nella stanza creativa, soprattutto adesso che ho trovato l'ambientazione giusta. Davanti ho questa barriera, tutte le mie cose, e ce l'ho davanti perché mano a mano che mi servono io prendo e faccio. Il fatto è che sta diventando sempre più alta e quindi dovremmo cambiare delle cose qui stanza creativa per far sì di poter sistemare queste cose, anche se mi fanno comodo sul tavolo, sistemarle vicino a me comunque e a quanto pare quest'anno è l'anno giusto. Quindi speriamo di poter riuscire a fare un video dopo in cui vi farò vedere la stanza creativa perché fare delle piccolissime modifiche che per me sono cose immense perché questa è una stanza che condividiamo io, Michele, Giulia, i cani, i gatti, la raccolta differenziata. È una stanza dove c'è tutto, ma io so contenta, mi ritengo fortunata ad avere questa stanza, solo che siccome le cose sono veramente tante, lo spazio è sempre quello, quindi dobbiamo cercare di sfruttare le pareti, dovremo mettere delle mensole in modo tale da poi vi farò vedere strada facendo, forse. Non lo so però, prima devo vedere se esce, poi se esce bene, se non esce già ho e continuerò a farvi vedere video semplicemente sulla postazione creativa. Allora, cosa c'ha Erika subito davanti la faccia? Questa è la Midori che mi sono fatta io in A5 che trovo comoda per poter scrivere e la lascio sempre qui, questo è sempre qui. Non ho un diario segreto, ho un altro diario dove scrivo ogni morto di papa, ma perché? Per scrivere in quel diario, sempre una Midori fatta da me, devo essere non ispirata, però c'è deve essere qualcosa che voglio focalizzare. Allora, quando devo focalizzare, io prendo quel Midori e scrivo ed è sempre in A5 con A8 miliardi di fascicoli. Questi non fatti solo con quattro, uno sta già finendo perché sto scrivendo. Allora, questo sta sempre qua. Quando non ho bisogno, questo è il tappetino per le creazioni, quando non ho bisogno del computer tolgo tutto. Tutto questo lo metto alle mie spalle sul mobile che ho dietro e quindi io qua mi trovo ad avere uno spazio bello ampio. Dall'immagine non so se si evince lo spazio, però qui a me è più che sufficiente per fare i miei lavori. Allora, considerato che qui devo ritagliare, devo fare, devo assemblare, perché se ho bisogno del computer portatile fisso ce l'ho davanti a me, se ho bisogno della stampante ce l'ho la laterale a me su un altro mobile, quindi comunque ho tutta la stanza che ruota intorno a questo tavolo. Qui ho quello che mi serve sempre, ecco che sia a disposizione. Allora, dicevo, una volta tolto, io lavoro qui. Tolgo anche queste cose, questo è un vassoietto dove tengo le cose che a volte dico, ah, questo non lo metto appoggio qui. Ecco, mi rimane molto comodo. Per esempio, questa sera sistemando delle scatole ho trovato queste tre pinzette e queste le devo rimettere a posto, però momentaneamente le ho appoggiate qui, quindi mi rimane molto comodo questo vassoietto. Qui me l'aveva fatto Ilaria, questo qui. Ilaria. Ilaria. Sì, Ilaria. No, perché mi si confondono i nomi, davvero, mi si confondono i nomi. È tipo un cristallo, questo che mi piace tanto. Lo tengo sempre qui e questo invece me l'aveva regalato il mio papà e mia mamma e lo tengo qua, è sempre un fermacarte. Poi, partendo da qui, questo è un barattolo che ho riciclato io dal mangiare dei gatti, l'ho fatto Tiffany, l'ho pitturato, rosa e sulla libreria ce l'ho bianco per metterci le penne. E sono quei barattoli grandi che vi faccio vedere a volte nei video spesa, quelli più grandi di tutti e sono veramente comodi per tenere le penne. Io ho fatto un po' l'effetto, vedete, un po' qui glitter, l'ho lavorato un pochino, veramente molto carino e ci ho appoggiato penne, pennarelli e quant'altro, perché io prendo e appoggio, io prendo e appoggio, io faccio questo nella mia vita, prendo e appoggio e questa cosa qui fa sì che le cose non le trovo mai al loro posto perché io prendo posto e poi vado cercando per tutta casa. Portapenne, qua ho tutto un set di forbici, pezzetta per gli occhiali, lo squishy, questo qui me l'ha fatto Vincenzo, è un unicorno che io porto sempre con me, è sempre qui con me, eccolo qui, lo tengo qui sullo squishy. Poi questo era un barattolino, si trovano in giro nei negozi questi barattoli di vetro con coperchio in ceramica, io ci tengo le clip dentro. Questo è il nuovo arrivato, è una scatolina, una cassetta di legno, scusate, è una cassetta di legno dove io dentro ci metto anche qui un po' di cose dell'ultimo minuto e niente, mi fa comodo, c'è tipo uno sgombro, capito, appoggio qui le cose. Questa è comodissima, io questa l'ho presa da Aliexpress e sono tutti, ecco vi faccio vedere, è un set, ho pagato due euro mi sembra, ho fatto un video tanto tempo fa, è un set con tutti gli anellini che mi servono, dal più piccolo, questo qua dovrebbero essere due o tre millimetri, al più grande, eccolo qua, mi rimane molto comodo, le ho sempre qua, set di scatoline con dentro un po' di componenti, qui le penne che comunque uso quando scrivo la Midori, questa qui, quando scrivo questa Midori, uso tutti questi, due astucci, questo è del carrello, mentre questo è l'astuccio che io tengo qua, io sono un amante degli astucci, ce l'ho per ogni ora, siccome ho la possibilità di avere un po' di penne, praticamente ho anche la possibilità di avere un bel po' di astucci, quindi me li spartisco, un po' li metto qua, un po' li metto là, poi alla fine mi serve tutti e prendo tutto e mi porto dietro, questo lo sto utilizzando, questo astuccio, per questa qui, invece di prendere solo questa, mi prendo tutto l'astuccio, ecco, faccio così io, per non spostare le cose che dopo so che stanno lì, questo è lo stondangoli, che per me è inseparabile, io ci faccio tutti i lavori, e praticamente questo qui rende l'angolo non a punta come i fogli normali, ma smussati ad arco, ed è molto comodo, poi questo è un contenitore, era di mio papà, dentro ci teneva, non mi ricordo se era una cosa per il diabete, era per il diabete, e non so che cosa c'erano dentro, insomma mi rimanevano comode queste, queste fialettine qua, infatti ce l'ho pure qua, dentro qua ci tengo le clip, ecco, mi rimangono comodi questi bidoncini, ne dovrei avere un po' di più, non so dove li ho appoggiati, ma è proprio perché io prendo appoggio, faccio un casotto, qui in questi due box, sembra tutto un disordine assoluto, ma non è così, perché io ci tengo tutte le carte, stampo qualcosa, il doppione lo metto qui, infatti qui sono tutte carte, tutto un pastrocchio, questo astuccio quando non lo uso va qui dentro, ma siccome l'ho utilizzato fino a prima è rimasto qui, clip, zip, ci ho da sistemare un po' di cose, questo era una cosa che avevo preso dagli espressi ed è un portapenne, ma l'ho riempito come un salazzaro, non ha senso, non ha senso, questa è l'acqua, quando sto qui devo averci l'acqua perché se no non ce la faccio, questo me l'aveva regalato Chiara, io poffo, è qui con me, eccolo, metto qui sempre, e niente questa è la mia postazione che trovo veramente comoda perché mi permette di avere tutto sotto mano, ovviamente il lavoro che sto facendo adesso si trova dentro questa scatola e sono delle midori e sto facendo anche un formato piccolissimo, quindi dopo vi farò un video di tutte queste midori che ho fatto, che è veramente bello, mi piace proprio tantissimo, qui ci sono tutte le cristalli, cristallini per le perline, questi sono due box impilabili del Tiger che io trovo estremamente comodo, anzi se dovessi ritrovarne altri li prendo perché me li appoggio qui sul tavolo o siccome questi sono, mi sembra, tre, vengono acquistati per fi, una, due e tre, ecco questo è il primo box, il secondo box, il terzo box e il quarto box, ma togliendo il coperchio si possono impilare tra di loro, quindi poi alla fine sono diventate due torri gemelle, ma ne devo prendere ancora perché non so più in domenica i componenti e quindi qui mi rimane comodo, è assodato che questa cosa qui mi è comodissima e deve rimanere qui sopra, poi cosa c'ho? Qui c'ho tutti i regali, questi qua che mi ha fatto Erika, li tengo qui, questo che mi ha fatto per il compleanno, questo me l'aveva fatto Deborah, li tengo qui, mi piacciono tanto, eccole perché c'ho pura che si rovinano, quindi li tengo tutti qui con me, li tengo tutti qua, questa è la scatola che io uso quando devo fare gli stickers e questa è la fustellatrice che mi ha regalato Deborah, piccolina, eccola qua, si vede qua, eccola, e sta sempre qua, a portata di mano, questo vi volevo dire, le cose che mi servono sono a portata di mano, io trovo che questa postazione sia comodissima proprio perché mi permette di avere tutto sotto gli occhi, proprio così a raggio, poi ovviamente mi devo alzare per forza per prendere le altre cose, però la maggior parte delle cose si trovano qui, ecco quelle che mi servono quando io devo pensare a una cosa, a un progetto, controllo se c'ho tutti i componenti qui, lavoro spesso qui. Allora, questo video, torno a ripetere, mi era stato richiesto tantissime volte, ma tantissime volte, proprio perché la gente mi dice, così ti immagino dove sei, quando dici che stai in stanza creativa sappiamo dove sei, e siccome più di una persona me l'ha detto, eccome qua, io sto qua, sempre qua, quando non lavoro a computer portatile, tolgo tutto e ho lo spazio per poter creare i miei piastrocchi, le mie midori le ho create qui, accompagnate dalla luce, eccola qua, questa qui che mi punta proprio qui sotto e mi fa la luce che mi serve. Vi mando un bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e a presto!